Più di 3.000 studenti delle scuole superiori del Bassanese hanno invaso il palazzetto dello sport di via Cadolfin. Non si è trattato di un concerto rock, anche se l'anima rock di sicuro ce l'ha il professore di fisica Vincenzo Schettini, arcinoto tra chi frequenta i social per la divulgazione originale e contemporanea della sua materia. In modo accattivante e coinvolgente ha catturato l'attenzione dei presenti portando la sua esperienza ma soprattutto la sua passione. Ci sono stati dei momenti, è durata tanto, è durata un'ora e mezza in cui c'era un silenzio pazzesco e questo non perché si debba stare in silenzio ma semplicemente perché quando siamo in comunicazione vogliamo ascoltare. Loro mi hanno ascoltato e io li ho ascoltati, è stato uno scambio incredibile, bellissimo e quindi un grande abbraccio a questi ragazzi per il loro futuro, un grande in bocca al lupo. Un modo di insegnare la fisica diverso, anche se in realtà non si cambiano regole, non si cambiano formule perché quelle sono. Ogni professore, ce ne sono tantissimi, che lavora guardando negli occhi di studenti e partendo dal fatto che io ti voglio far amare quello di cui ti sto parlando, è un professore vincente, è il professore che rimarrà nei cuori come quello dell'attimo fuggente. Senza risparmiare selfie e autografi, come una vera star, ha lasciato un segno in questi giovani cui si è rivolto con il cuore. Un messaggio che viene arranciato ai ragazzi è quello, in ogni caso comunque, di impegnarsi. È il primo passo, ecco perché non bisogna farsi fregare dal fatto che ho il professore che mi coinvolge, mi impegno, ho il professore che non mi passa, allora mi distraggo. Lì è un problema, lì stai perdendo tu un'occasione di sintonizzarti col mondo e domani lavoro, università e soprattutto affetti saranno dovuti alla connessione che saprai creare, quella connessione la impari a scuola. La fisica è stupenda, la fisica la comprendi quando la guardi, ciao!